RB, la vostra chiave. La ditta produce chiavi per serrature dal 1949. La gamma produttiva si è comunque sviluppata nel tempo. Infatti, oltre alle chiavi tradizionali, offre un'ampia scelta di prodotti tecnologicamente avanzati, quali chiavi con trasponder, chiavi di sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate, mobili da lavoro, espositori e accessori chiavi in genere. RB opera a livello internazionale e fa parte del gruppo Altuna, leader in Europa.